I carabinieri della stazione di Praia Mare in provincia di Cosenza hanno arrestato una donna a 37enne con l'accusa di atti persecutori ai danni dell'ex compagno, un commerciante della zona. L'uomo, già in passato, si era rivolto ai militari dell'arma per denunciare la donna che, ponendo in essere una costante condotta ossessiva, aveva generato nell'ex compagno un grave stato di paura costringendola a cambiare le proprie abitudini di vita. Durante lo scorso fine settimana la donna, nonostante fosse sottoposta alla misura del divieto di avvicinamento al commerciante, si è presentata presso il suo esercizio commerciale al fine di convincere l'uomo a ricominciare la relazione sentimentale. Nella circostanza la donna è stata allontanata e deferita alla competente autorità giudiziaria, ma non soddisfatta la sera successiva, la donna ha reiterato la condotta e al fine di tutelare l'uomo i militari dell'arma hanno fermato lo stalker dichiarandola in stato di arresto con l'accusa di atti persecutori in attesa di essere giudicata dall'autorità giudiziaria competente.